Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di Lazio-Juventus, partita importantissima perché siamo alla 27esima giornata di campionato, quindi diciamo che siamo, non dico la fase finalissima però comunque sono una decina di partite, poco più, e possono essere anche poche da un certo punto di vista o molte, dipende dalla classifica. Arriviamo a Roma, a un punto dal Napoli quindi intanto questo ci permette di superare momentaneamente il Napoli, anche se sappiamo che stasera gioca Napoli-Roma quindi vediamo come andrà, ovviamente un po' speriamo che Napoli si fermi, perlomeno che non porti a casa i tre punti poi ci potrebbe restare e manderebbe le cose così, e se perdesse e vincesse qui nella Roma sicuramente ci andrebbe molto bene detto questo non facciamo calcoli perché noi dovevamo pensare a noi, oggi abbiamo fatto questo, abbiamo pensato a noi abbiamo portato a casa tre punti importanti ma molto faticosi per il raggiungimento di questi tre punti perché? Perché abbiamo due squadre, una la Juve e una la Lazio, Juve che ormai è un po' la testa al Tottenham perché parliamoci chiaro, quando hai tanti impegni abbiamo avuto anche noi Coppa Italia, abbiamo avuto appunto il campionato partiti importanti, abbiamo la Champions League, tanti impegni provanti, tanti infortuni tanto stress sicuramente fisico e mentale da parte i giocatori, qualche giocatore è tornato, qualche giocatore purtroppo si è fermato Iguain, Bernardeschi e così via, qui diciamo che noi non arriviamo a Roma nel momento migliore ecco per portare a casa tre punti la Lazio invece arriva da 120 minuti in Coppa Italia che sono stati veramente faticosi dal punto di vista fisico il Milan è passato se lo sappiamo già, quindi la Lazio forse un po' anche demoralizzata ma comunque molto affaticato dal punto di vista fisico e si è visto anche nei migliori interpreti, penso a Milinkovic e Savic che oggi è stato anche in più occasioni fermato ai nostri giocatori con più facilità, quindi vuol dire che anche lui un po' soffriva, non noi ma soffriva la fatica accumulata detto questo è una partita che è stata tendenzialmente molto noiosa perché diciamo che partite molto equilibrate in cui c'è la Lazio che oso un po' di più però poi si stanca nel secondo tempo una Juve che fa qualche errore nel primo tempo molto bassa con un cambio di modulo corso d'opera secondo tempo un po' più arrembante con i cambi, diciamo che la Juventus e la Lazio in qualche modo equivalse le occasioni da rete sono veramente poche, oserei dire, cioè da rete nel senso che sono andate nella direzione della porta ma oserei dire che le occasioni in quelle proprio pericolose sono state veramente, si contano neanche su due mani ma su una forse basta una, questo perché chiaramente è una partita molto equilibrata in cui tutte le squadre hanno dato forse non il massimo anche perché il massimo non ce l'avevano sulle gambe e anche di testa però alla fine questi tre punti sono arrivati va bene così, diciamo che il 3-5-2 che imposta la Lega è stato un fallimento perché poi l'ha cambiato durante la partita riportando Barzagli bloccato come terzino bloccato quindi 3-5-2 forse è un esperimento, un risperimento, diciamo che l'esperimento non era perché sembrava più di vedere il 3-5-2 del 2012-2013 con Assamolik stani titolari quindi diciamo che sono passati 5-6 anni forse era il caso di non puntare su questa cosa qua diciamo che la Lega non è stato aiutato in nessun modo da quello che è stato un po' in qualche modo fossero le infortuni e così via forse quella Lega è una mossa per far giocare la Berser in un modo perché alla fine parliamoci chiaro 3-5-2 vede Inzaghi evidentemente a disporre i giocatori suoi in un modo per fermare Juventus vede a Lega che il 3-5-1 sta funzionando e cambia portando un terzino bloccato appunto Barzagli spostato in avanti Nick Steiner e dando un po' ritornando a difesa 4 che sicuramente dà qualche certezza in più diciamo che la Juventus è stata molto compatta perché chiaramente parliamoci chiaro ok che la Lazio non era al troppo della forma ma sicuramente non subire gol è una vittoria dal punto di vista difensivo difesa incepibile, centrocampo che ha retto diciamo che è mancato in tutta la partita tralasciamo il gol che poi spieghiamo un po' come arriva tutta la partita è mancata la posa offensiva di attaccante oggi Mandzukic non vuole neanche giocare perché ha avuto un piccolo acciacco però ha giocato perché Dybala tra l'altro Dybala è trovato da poco e si vede che Dybala non ha ancora 90 minuti ha avuto se no un tempo e tra l'altro i 90 minuti Dybala ha giocato mediamente male non dico male ma lì nel senso che non è Dybala però è anche vero che i veri campioni si vedono nel momento di bisogno in momenti nei lampi di Genio perché Dybala per praticamente 92 minuti arriva al 93esimo non ha giocato bene non mi è piaciuto perché si vedeva che era un problema di gambe soprattutto chiaramente la posizione è cambiata ancora in questo attacco a due non ha aiutato però Dybala alla fine ha dimostrato che i campioni vengono fuori nel momento di bisogno nel momento di bisogno era il 93esimo il 93esimo che tra l'altro è un numero significativo per noi perché tutte le partite vinte all'ultimo minuto sono tutte al 93esimo cioè nel senso che magari qualche volta puoi fare gol l'88esimo, l'89esimo, il 90esimo, il 96esimo è successo ma il 93esimo ritorna spesso mi pare due derby di Torino mi pare già questo è abbastanza importante e contro la Lazio quindi sono quelle partite che nei nostri ultimi anni sono significate scudetto non perché questo voglia dire che noi vinceremo lo scritto per forza ma sono quei punti più importanti degli altri pur equivalendo sempre a tre punti come tutte le partite ma quando li acquisti, li acquisisci con così tanta fatica e così alla fine quando ormai tutto sembra sedimentato solo 0-0 ecco che quella partita prende un peso maggiore quindi io direi che questa è la partita del 93esimo e quando vedo questo gol a questo minuto mi si illumina un po' gli occhi perché mi ricorda delle belle cose nel passato chiaramente non è che le cose si ripetano anche se sono i cicli di cicli della storia ma diciamo che tendenzialmente ciò è tutto un caso e non è che si ripeta per forza una cosa solo perché accade bisogna continuare a lavorare perché ci sono adesso 11 partite importantissime con una sfida scudetto ancora in atto che sicuramente andrà avanti io credo fino alla fine perché adesso il Napoli tra l'altro ricordiamoci che ha solo questa competizione sicuramente noi abbiamo ancora per ora 3 anzi 3 sì sicuramente 2 c'è il campionato del Coppa Italia e speriamo anche la Champions che vada oltre mercoledì quindi io ok le critiche potremmo anche fare su oggi perché sicuramente la partita non è stata bellissima perché chiaramente abbiamo una squadra che ancora non gira buonissimo che hanno di fortuna e così via sicuramente dal punto di vista del gioco tanto esaltato e tanto insomma richiamato dagli esperti non è che abbiamo visto uno spettacolo ma neanche dalla parte della Lazio però alla fine cosa conta? conta vincere secondo me conta portare a casa i punti e se lo tieni in questo modo qua è tutto di guadagnato perché vuol dire che la squadra che è ciniche la squadra che comunque porta a casa i risultati senza essere bellissime magari senza strafare quindi vuol dire anche con non dico semplicità ma con tranquillità lui Mendes è stata tranquilla tutta la partita forse questa è la cosa positiva di questo oggi la tranquillità non fretta di fare le cose che talvolta può dalleggiarti nel momento in cui non vinci nel momento in cui poi arriva il risultato così sicuramente è importante il gol arriva un po' perché secondo me Allegra Zecca ha bellissimi cambi paradossalmente Douglas Costa è un giocatore di rottura e quindi quando l'ha messo il fatto che non aveva messo il titolare secondo me è molto giusto e molto giusto averlo messo in partita in corso infatti quando l'ha nascosto un po' tutto si è smosso con Alexandro Davanti molto bene Alexandro Davanti perché è un giocatore molto offensivo pur essendo un trazzino e Di Balla poi ha fatto una cosa magnifica li stanno in piedi cosa che dovrebbe far sempre spesso non lo fa perché un po' si è un po' creato un po' questa questa cosa campana di vetro in cui viene sempre in qualche modo cullato e sa che buttandosi può cercare qualche fall qua in questo caso però è alla terra perché la fisica la gravità gli ha permesso alla terra ma ha sfruttato il massimo se dal terra ha fatto ha tirato in porta quindi oggi Di Balla ha fatto una cosa da campioni pur non essendo magari bellissima ma poi il gol di sfinimento che talvolta rende la partita perfetta pur non essendo lo stato magari dei 90 minuti precedenti detto questo ragazzi sono contento perché chiaramente i tre punti sono arrivati e mi interessa solo questo vediamo stasera cosa fa Napoli-Roma speriamo che perlomeno non li rallentino ma che ci ritornino le cose da essere come erano fino a qualche ora fa perlomeno quello io spero che non vadano oltre perché altrimenti significerebbe insomma continuare a rincorrere anche se sperando che poi tutto ciò si risolva con lo scontro diretto Forza Juve come sempre il prossimo video che sarà quello che sarà e vi dirò che sarà domani un video particolare visto che domani il 4 marzo e il 4 marzo ricorda qualcosa nel senso domani ci sarà qualcosa di importante a livello nazionale che io ricorderò con qualcosa di più carino a la prossima ciao paura 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 a la prossima a la prossima a la prossima Grazie a tutti.